Eccoci qua! Ciao Claudia! Allora, cosa abbiamo imparato nella prima parte? Oh, tante belle cose, i profumi ispirati... Ci sono due nuovi profumi! La donna di Gioia, con la O, Gioia! Non vedo l'ora di comprarli per provarli! Ma quello è stato uno dei miei profumi per un sacco di tempo, perciò adesso si può comprare! Gioia, con la O, Gioia! Non vedo l'ora di comprarli per provarli! Ma quello è stato uno dei miei profumi per un sacco di tempo, perciò adesso si può comprare! Al prezzo modico di 24 euro! Brava, hai imparato bene! Ciao Paola! Allora, aspetta che inquadro lì la nuova spilla che hai! Questa è la spilla da Zaffiro! Zaffiro? Anche Luciano! Siete una coppia di Zaffiro! E quindi? E quindi abbiamo raggiunto il primo livello di carriera serio in SNAP! Nel sette mesi! Cosa che nell'azienda non ho raggiunto i due piani! Questo verso il piano di massi! Eccoci con Silvia e il suo compagno! Allora che ci facciamo a Roma? Siamo venuti a Roma per l'evento dell'8 di dicembre, siamo venuti a sentire le presentazioni dei nuovi prodotti, siamo venuti a vedere cosa ci offre l'azienda in questo evento! E secondo te perché le persone devono venire a questi eventi? Devono venire perché sono momenti importanti di condivisione, momenti in cui si scopre come è l'azienda, come lavora e momenti in cui ci rendiamo conto che è un'azienda ben strutturata! Brava! Ciao! Allora ecco qua un'altra coppia! Ciao! Laura e Enrico! Come mai siete venuti a Roma? Noi siamo venuti a Roma a un bellissimo evento dell'azienda con cui collaboriamo! È un'azienda fantastica che ci dà delle opportunità indescrivibili! Informatevi da Marisa! Sì! Enrico, cosa ci dici? Sei contento? Molto! Quando noi veniamo agli eventi di Zendali siamo sempre contenti perché ci sono sempre delle grossissime novità! E siamo qua a tavola perché è già ora di cena stiamo aspettando che arrivino tutti la sala è bellissima, guarda che tetto! Siamo qua, abbiamo fame, abbiamo già mangiato pane e bevuto vino siamo già a buon punto diciamo! Certo! Assolutamente! Buona serata! Siamo anche con degli amici toscani Ecco! Ciao! Ciao! Così condividiamo la tavola! Ciao! E Claudia è il amore mio! Stai benissimo oggi! Cosa c'è? È arrivata la navetta! Ciao! ... Allora... un giorno sono qua, pausa pranzo sto bevendo il mio shake al cappuccino e latte di soia cioè praticamente come a casa! non è cambiato assolutamente niente l'ho assaggiato anche le bacche di goji non l'avevo mai preso non è male, è da mangiare freddo, è molto estivo è fruttato, buono quindi non l'avevo mai preso e l'ho assaggiato cosa volevo dire? volevo dire che sono stati due giorni meravigliosi c'è ancora una parte del pomeriggio ma già posso tra le prime conclusioni allora l'evento è stato bellissimo io non sono tanto da evento perché sapete che a me le cose lì dove tutti si alzano e battono le mani non è che mi piacciono tanto invece sì, mi è piaciuto mi è piaciuto, è stato coinvolgente emozionante, una bella carica e spero di riuscire a trasmetterla anche alle mie amiche quando torno a casa ho visto tanta gente che ce l'ha fatta cosa vuol dire che ce l'ha fatta? che è dimagrita, che ha avuto benessere, che è stata bene ma soprattutto tanta gente che ha cambiato vita che ha cambiato lavoro che ha cambiato guadagni che ha cambiato stile di vita quindi per ognuno c'è la possibilità di miglioramento perché ce la possiamo fare in base a qual è il nostro sogno qual è il nostro obiettivo sapete che adesso sono con i sogni perché sono scufa della realtà triste e noiosa e grigio voglio di sognare e siccome vedo che c'è gente che ha sognato ed è riuscita a raggiungere i propri sogni anche io voglio sognare però mi voglio anche impugnare e mi voglio impugnare insieme a voi insieme alle mie amiche insieme alla mia squadra insieme a coloro che credono in me sapete che io non mi butto mai non ho facili entusiasmi per niente per cui se dico che ne vale la pena ne vale la pena ne vale la pena di frequentare di formarsi di partecipare agli eventi e ne vale la pena veramente si può sognare e fare qualcosa di diverso per il nostro fisico per la nostra mente per la nostra famiglia quindi niente con questo vi saluto da Roma è tutto e ci sentiamo sempre su Instagram e su Facebook ho creato una pagina su Facebook chiacchiere sul divano e quindi anche io ogni tanto metterò delle cose e niente seguitemi e ci saranno aggiornamenti e buon appetito aspettate che adesso faccio cadere ok ciao ciao allora momento di pausa pausa caffè sigaretta per gli altri io no sono venuta qua dietro a godermi questo spettacolo c'è il campo da golf non so se vedete là dietro adesso devo ingrandire un po' si giocano a golf cioè no io che bello vedere il verde vedere le piante il prato il laghetto il salice piangente cioè allora abbiamo appena finito di parlare di prodotti Snap c'è il colui che fa le formule ha parlato di nuovo prodotto che sarà lanciato tra poco sul mercato dalle proprietà strabilianti lui è ricercatore universitario mi dico solo che ha fatto hanno fatto non solo lui lui la Fekip studi sull'utilizzo in pazienti con la SLA e penso che sia già abbastanza questo niente la vita è meravigliosa grazie grazie a tutti